Così, e dai, poi lo aggiusto quando giochiamo, sì, sì, lo aggiusto quando giochiamo, ok, ecco, prego, entrate, entrate, forza, sbrigatevi però, perché non è che io ho tempo di aspettare, bravi, bravi, è normale, è normale, aspettate che qua facciamo un pochino più piccola questa cosa così, perché se no non vediamo un accidenti, così dovrebbe essere giusto, beh, che bello, che bello, Allora, pronti, faccio partire? Sì, faccio partire, vai, impostore, fa attenzione, l'impostore deve essere molto discreto quando altera il flusso dell'album, siate discreti, va bene, ok, esatto, esatto, ok, allora, se vi esce, sei un artista, tu devi giocare normale, tu non devi dire cosa sei però, ti sto dicendo, se, ok, che cos'è qua, aspetta, procedi, non sto capendo, boh, dovete procedere tutto, ok, ok, Procedi, a loro, a loro, mi piace già Ah, ma qua, ma non c'è Ah, ma è difficile Ma io voglio scegliere io cosa devo disegnare, perché non posso Ma diseggia quello che vuoi in base a quello che è là, poi continuiamo noi scrivendo, no? Ah Devi praticamente contenere la parola, io faccio così No, devi rappresentare quello che ti è uscito scritto Ah, infatti, devi rappresentarlo Esatto, sì No, lo faccio a forma di uno di voi Mi siete un po' truffato allora E io l'ho fatto a fare Volevo fare le cose belle Vabbè, vabbè, a forma di uno di noi Ma anche voi avete Perché io ho il gioco strano, è tutto il bordo tipo di un colore, il centro nero No, non ce l'abbiamo così È perché io ho la dark mode attivata Toglila, toglila, cliccala Come è la dark mode? Clicca quella cosa lì Cliccala e si toglie Spenta Oh Eh, eh, eh Ora è, ora è acceccante Oh, ma è finito il tempo Ma che davvero? Oh no, aiuto Eh, cosa? Dai, io sono stato l'impostore, ho rovinato tutto Ma anch'io sono stato l'impostore Siamo tutti impostori, mi sa No, il mio fa tipo schifo, no, scusate, scusate Anche il mio fa schifo, non ero concentrato, non ero pronto No, scusate, raga, io spero che si capisca Io ho fatto Vabbè, gli impostori, però mi raccomando, eh Sti impostori che cerchino di fare Ma si è bloccato il timer? Ma chi è che non ha messo pronto? Ah, io pensavo facci l'automatico, scusate No, questo qua è deficiente, raga, non è possibile Questo qua è stupido, forte Cioè, mamma mia Oh, mi raccomando, per bene, eh Non so, non so come descrivere questo, sinceramente Però va bene Boh, non lo so, io non lo so Io ho messo pronto Pronti? Oh, quando dico pronto, però bisogna premere subito Chi è che non sta premendo subito quando io dico pronti? Anna, sicuro No, 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 io sono stata la prima a premere Vabbè, vabbè, ok Ok, questo è bellissimo, attenzione Non riesco a farlo Sono artistico io, eh Anch'io un po' Ci abbiamo ripreso la mano Ci abbiamo ripreso la mano Sono l'artista proprio Sembra molto bello questo video Proprio bravo Molto bello, adesso passiamo al corpo C'è poco tempo, eh, state attenti Sì, è pochissimo, non ce la farò mai Sì Sì Eh, vedi, vedi Anna però che non parla Vogliamo parlarne No, hai ragione Però veramente Hai rotto le palle No, adesso mi concentro a parlare Sì Bene, sono contento Io sono sul pezzo Io sono sul pezzo Io pure Però quello che ha scritto questa cosa L'ha scritta a metà Quindi Il mio disegno è orrendo Cioè, oggi proprio No, non è pronto Non lo so No, no, ho scasciato tu Dai Sei l'impostore C'è l'impostore Io penso Ho scasciato tutto per sbaglio Questo disegno del mio Io penso che Dai, che cos'è questo? Siamo stati tutti impostori Che Beh, questo è facile, eh No, è facilissimo Dai, è molto più facile Questo disegno qua Ok Pronti? No, no Come no? Sì Pronti Pronti Ok, fatto Pronto Pronto Pronti Pronti Ma mette dai Non l'ho scritto niente Ma come è possibile? Ma non si può dire la frase Vai, che hai fatto? È una frase lunghissima Cosa? Ma io voglio capire Chi è lo stupido Che non riesce a scrivere in tempo Perché guarda È una malattia Secondo me È possibile Ma è molto difficile Capire subito Certi disegni Ma devi capire Non credo Non lo so No, a me sembra Che è sempre meno tempo, eh E allora sbrigatevi No, raga Ma allora è difficilissimo Dai, il mio è bello È impossibile È impossibile Dai, ma come si fa? Ma che bello che è, però, eh Ma quando mai? Non è tanto bello il mio, però Ma non è divertente Ma lui mi fa tipo schifo, cioè Guarda che è bello Guarda che è bello Ma io i disegni di oggi Li ho fatti veramente Ma sì, ma fate le cose Bellissime, bellissime Via, pronto Pronto Come pronto? Oh È pronto Ma hai dovuto scrivere due parole Ho messo pronto Ma no, bisognava disegnare Ah no, io devo scrivere Ma che scrive veramente? Perché io devo scrivere? Oh, Anna è l'impostore C'era l'impostore Io ora devo scrivere Anna sei la schifezza Io prima dovevo disegnare Anna è l'impostore Ma che vuoi disegnare? No, no, no Cos'è? Fatto, fatto Ah, non ho scritto niente No, dai, non ho scritto niente Dai Dai Ma che bisogna fare? È impossibile Beh, devo segnare Cos'è sta roba? Mi sa che dobbiamo segnare Chi è sospetto? No, bellissimo Ok Wow È come Among Us Devi votarlo Ok Quindi dobbiamo taggare Ok Organizziamoci Allora Qua c'è il signore Però io preferivo mettere io le parole sinceramente Ho dovuto fare la pancia Ed ecco qua È venuta bene Ok Credo che potete taggare come impostore Pancia felice Vuole scrivere Pancia felice Vuole scrivere E sei un idiota E sei un idiota A chi segnaliamo? Dicci tu Beh, Anna ha fatto normale Un faccione sulla pancia Abbiamo individuato dei sospetti Ma dove? Ma perché? Chi è che l'ha individuato? Ma il gioco Non lo so Qualcuno ha segnalato Chi ha segnalato? Ma forse si cambia la scritta In automatico No Ma io non capisco niente Ma è andato avanti da sola Neanch'io Accuattarsi Ma che parola Ma questo è stato impossibile Ma questo sta cagando È accuattato per fare la gare Uomo che fai bisogni Però è accuattato Ah vedi L'ha segnalato automaticamente Sì ma a noi non interessa Fai bisogno un po' Con il giornale Lei non mi fai bisogni mentre Non faceva scrivere Mentre le leggi volevo dire Cosa? Questo è un granchio Ma questo Il segnalo Il segnalo Il segnalo Il segnalo Come si segnala Alex? Come si fa? Dai è proprio difficilissimo Raga suppongo che Alla fine del round Dobbiamo dire Chi era l'impostore Probabile E Alex Teniamo a mente insomma Che schifo Che schifo È un mio ustel Alex guida la Batmobile Eh sì È quella Eh sì È bello comunque È una miseria È un pallino È un pallino Non può essere Alex Dai è stato bravo Io non sono stato altrettanto bravo No tu fai cagare in tutto Infatti secondo me sei tu Sei Allora io inizio a capire Allora prima di tutto Due cose Uno Voi non sapete scrivere Perché non è possibile Anna Cioè mi spieghi? Ah senti Questo è non lo stesso Ma scrivi veloce Ma scrivi qualcosa Quello è nello stesso momento In cui tu hai scritto Non urlare Non urlare Ma se mi parli sopra Ecco e tu devi stare zitta Però No perché tu in quello stesso momento Sì perché Non è vero Perché devi finire le frasi Oh Eh Dai qua è palesemente tutto rotto Non si capisce più niente È un comitolo È tutto completamente sgangherato Ribasato Ma è la racchetta La parola Raga dovete finire le frasi Qualsiasi cosa sia Dovete finire la frase No è qui le parole sono più brevi Eh c'è il limite Ci sono meno caratteri Ho capito Scrivi due parole Alex gomito No ma scusate Io non ho ancora sospetti Ma L'impostore non ha capito il gioco Mi sa Mi sa Infatti Infatti Io guarda Vediamo che è l'impostore Io mi auguro Mi auguro che non sia come penso Perché veramente Se l'impostore non ha capito nulla Perché qua c'è palesemente un cretino eh Cioè o è stato molto subdolo Vediamo eh Ma nessuno ha sbagliato Eh no Ma c'è per forza l'impostore Sì 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 È un inferniere Un inferniere Cioè c'è qualcuno che ha rotto un po' eh Però Anche secondo me Sì ma comunque il senso rispettava l'immagine prima Capito O viceversa Eh effettivamente No ecco l'impostore Beh 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 Pensa che questo è l'impostore Beh Non giuro Rega scusate Ma Cosa Vabbè Pensavo un uccello Giusto Eh A parte io mi ricordo che era diversa la frase Però vabbè Bello questo Sì è proprio Sembra un tapiro Mi piacciono i tapiri Ecco la frase identica Allora è finita Poi dobbiamo votare l'impostore È messa di sì Oh Non ditelo Non lo dobbiamo dire Allora secondo me No vabbè No vabbè Non ditelo Vabbè io ho votato Vabbè io ho votato Anch'io ho votato Anch'io Anch'io Ecco qua Chiunque Pianina Ma non hai fatto niente Ma io non lo sapevo Ma cosa Ma non lo sapevi Ma cosa sei l'idiota No io non ci posso credere Ma questo è il cretino Ma spiegaci bene Cosa cavolo hai combinato Pianina finto Non ci sono scritto niente all'inizio Ma sei un deficiente C'era scritto Sei l'impostore Invece di sei un artista Ma io Ma io a te Non ti devo invitare più in niente No no Cioè tu sei l'idiota Che rovina le cose Scusate Ma com'è possibile Cioè veramente Ma sei un idiota Sì è vero Eh ma vaffanculo Ma ti sembra No Ma scusa cosa E non lo è successo Dime Dai sei un imbecille No ma io non ci posso credere Io non ci posso credere Io non ci posso credere Cioè ma veramente Ma tu continuamente Le fai ste cose Continuamente Come è possibile Eh non lo so Non capisci Mai nulla Di niente Oh Mettete pronto Pronto Messo pronto Pronto Tutti Cursetre che il mio Eh vabbè ma cos'è questo Cos'è questo Dai Cioè una volta facciamo una cosa diversa E Piadina la deve rovinare Ragazza Stavolta è solo una parola Cioè Piadina spiegami Ma è vero C'è un tutorial normale Non è vero Non è vero Scusa Con iscritto Sei un artista Ragazzi non c'è tempo Fatto vai vai Ok Piadina Scusate Non l'ho fatto scusare Ma non mi interessano le tue scuse Hai rovinato la cosa Entra meglio la prossima Ma se non sei tu sì Ma fai cagare Cioè ogni volta che ti si affida qualcosa Non viene fuori niente di buono Ma ti sembra possibile No non è possibile Eh ma succede continuamente Non succederà più Noria Questi sono difficilissimi Ma è difficilissimo Allora io lo sapevo Quando ho visto Concentrati Che non succedeva nulla O era Piadina O era Porca miseria Cico che non aveva letto Perché Ma tra l'altro Strecato Sì ma perché Rovinava i disegni Ma che faccio schifo Cioè Mamma mia Piadina Mamma mia Ok Quando volete A sto giro ci sono Cioè adesso parla solo Piadina Per tutto il tempo Forza cammina Tanto non devi fare nulla Dicendo scusa a tutti A voi All'audience Perché ho fatto Ma vai a cagare Guarda io non penso Che ti perdono nessuno Io non ti perdonerei Io non ti perdono Io non ti perdono Mettete pronto Io no 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 Comunque secondo me Sto fatto di mettere insieme Noi con la parola che esce Già E dai impostore È bellissimo È bellissimo Sì 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 Allora Secondo me Secondo te? No c'è anche Alex Assurdo Eh sì Ci sono anche io Eh pensa te Pensa te Dove eri? Dove eri finito? È andato un attimo via Mi ero andato un attimo spostato Capito? Perché a me non mi sono girate abbastanza le palle per Piadina Oh Gli dai da costruire una cosa su Minecraft E viene fuori uno schifo Gli dai da Da fare un ruolo E non viene fuori niente Scusa ma cosa ci vieni a fare allora? Sai fare nulla? È solo un danno un po' Eh sì È non solo un danno eh Ma cos'è questo adesso? Rega il mio è impossibile Ma queste cose sono difficilissime da disegnare Il mio non l'avevo fatto Sono proprio bravo No 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 il mio è terribile Il mio è terribile Anche il mio è super temibile Il mio è terribile No è terrificante il mio Cioè non so cos'è Non so cos'è Neanch'io Veramente Eh niente È andata così È andata così Deve andare così No ragazzi come si disegna? Ormai è fatta Via Ok via Pronto pronto Messo pronto Alzo le mani Alzo le mani A Gagabet Oh Scusa Cosa? Dai ma non è più niente Non è più niente Che roba è? Va bene ho fatto Vai In questo riconosco la mano di qualcuno eh Vai 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 Io ho messo pronto Vai 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 Ok fatto Allora Abbiamo finito vai procediamo Allora questa volta però mi raccomando eh Ok io ci sono Io ci sono Mi raccomando Mi raccomando eh L'imposto mi ha impostato stavolta Vediamo No sicuramente sì Missile Ok missile È un missile E qua tu hai fatto un missile Bravo bravo Perché bisogna anche essere un po' scaltrice Se tu cambi completamente il significato Dai il raggio è missile uguale Sì è la stessa cosa È la stessa cosa Ok Viadino non è che sei di nuovo tu no? No 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 Questa volta no Questa volta ho letto tutto Il cielo sono di sopra Anche le vie Ecco questo qui è alterato Questo è sempre un fuguetto Perché è un pisello Un cappello di una strega Un razzo pazzesco È tutto bello Ma come è vola Vabbè vabbè Per il momento non ho alcun sospetto ancora Io mi auguro che chi era l'impostore questa volta abbia capito Perché inizio ad essere colto da qualche sospetto io Comunque vabbè Di nuovo mi sa Ma 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 Tapiro con dente Tapiro Vabbè è un po' diverso il significato Sei stupido Sei di nuovo tu No se sono di nuovo l'impostore Guarda Faccio un danno Questo non è un tapiro Questo non è un tapiro Alex sei tu Io non so neanche come si fa un tapiro Scusatemi eh Secondo me è Alex Va bene Quanto è brutto il mio Eh per ora Qua è giusto eh Qua è giusto però Ok Quello di Alex era diverso Pancake Pancake Ok vediamo Questo può essere tutto Sì È un cappello È un po' torto Plum cake Non poteva essere un plum cake Ma sono di te se i plum cake Alex ripostore Io non li riconosco Sì 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 I plum cake sono quelli che Ma rispetto a plum cake Un muffin Mi sembra che è completamente diverso Molto diverso Molto diverso Questo qui è di compleanno Sì c'è la candela È molto compleanno Ed io ho anche recuperato Parte del significato Perfetto Peccato che si era partiti Con pancake Vediamo quello di Alex È arrivata comunque una torta Vediamo un po' Piovra Piovra Ma cosa? Vabbè è un po' broken Però Anna Medusa Questa non è Medusa Beh sicuramente 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 hai rotto un po' Ho impostato Ho impostato per sbaglio È stato uno sbaglio Ho piadina Cioè io ho dovuto fare questa cosa Non so Allora io questo Lo riconosco come Il tuo modo di disegnare un verme Un verme Hai ragione Hai ragione Vabbè Andiamo avanti Ora c'è la mia Alligatore Che parola difficile Comunque Cioè Ma che cos'è Che schifo Dai è un brocco È un mostro Paga sputafuoco Da drago Eh anche qui Hai alterato Però un po' E la miseria Si è alterato Ma perché da drago Volevo dire Che è forma di drago Paga sputafuoco Lo sputa di brutto Allora Alex Secondo me Se sei tu Hai capito Uguale a piadina No Io non sono Quindi vedi un po' te E allora chi è Perché qua Non è che sono di nuovo io Oh ne manca ancora uno Spugna Cioè ma non è nessuno Di nuovo Scusate veramente Ma non è che c'era Da impostare Il numero degli impostori No Oh Non scherziamo eh No era una spugna Era un formaggio Ma che carino Ok questo è giusto Comunque È molto giusto Formaggioso Di brutto Raga Hai visto davvero Paura Paglina Stai impostando Io Allora Qui mi hai rotto tutto Tutti quanti Io non ho capito Ma nessuno particolarmente Lion è formato Io ho un sospetto Io ho un sospetto Voto Ma anche io Anche io ho votato Il mio sospetto Allora io mi arrabbio di nuovo E io ve lo dico Non me ne frega niente Tiro anche parolacce Lo sapevo Lo sapevo Ma tu lo sapevi Io l'ho votato Ero io Sì lo sapevo Ma cosa hai cambiato Niente Ma scusa Non li ho cambiati tutti Ma almeno tre o quattro Li ho cambiati Ma dovevi cambiarli No vabbè ma qui Qua qua c'è Cioè ma qua uno Che gli funziona il cervello Non c'è Ma non li devi mica Cambiare tutti Perché altrimenti Viene scoperto Però tipo da polpa medusa L'ha fatto Ma voi avete notato qualcosa E se no Allora per favore L'impostore può fare qualcosa Perché qua siamo a livello di piadina Per quanto mi riguarda Cioè io non ho notato niente Non è bene No E no E no Strei non ho sentito neanche delle scuse Mi dispiace Non volevo farlo in tutti Ma c'è l'impostore Cosa devi fare Ma perché non esco io Ma perché c'era scritto Che non dovevo farmi notare tantissimo Ma a te te ne frega Di quello che c'è scritto Di quello che ti dico io Perché non sapevo giocare E non sai fare niente Cosa sei Mi dispiace Fratello di piadina Mi dispiace Cioè un'ora a dire a piadina Che non aveva cambiato nulla E poi arrivi tu E fai uguale a lui Mi dispiace Ma sai dire solo questo Non lo so Io ci ho provato Hai fatto cagare Eh lo so Ah è Mettiamo pronto Andiamo avanti No Per favore L'impostore di adesso Per favore Può fare qualcosa Da impostore Impostare Imposti un po' Per favore Questa è facilissima Facilissima Ho fatto vai Sono pronto Ok vai Dai cerchiamo di essere esperiti Così possiamo vedere se è l'impostore Perché è una parola sola Quello che c'era Ok ottimo 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 Ma tra me sono diventati esperti Un po' Non è feo No Tu stai zitto Perché per me No mi trema la mano Per me tu piadina sei morto Ok No Dai prima o poi mi farò perdonare Io Ma in che modo Te lo dico io un modo Il cappello del mago Il cappello del coniglio Questo Chi è che lo sta mettendo Chi era Ero io Allora Anna Anna Oh Questo sarà Vai vai Forza rapidi Sarà l'interpretazione Chi è che sta scrivendo Chi è che Ma chi è che Allora c'è qualcuno di voi Che non capisce Che deve avere fretta Dall'inizio Da adesso Cioè Metti pronto Anna Metti pronto Adesso Ma poi c'è pronto Metti pronto Anna Hai messo pronto Sì Oh Perché non è così Cioè devi essere veloce Devi avere fretta da subito Se non poi arrivi alla fine Ma come fai E non hai fatto niente Beh non lo so Ma io ci dire Devi fare veloce No Perché altrimenti Non riesci a fare Eh io ci sono riuscito Guarda è bello Ma è difficilissimo questo qua Fatto via Vai Va bene via Pronto Ho messo pronto 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 Cos'è Cos'è Devo scrivere così Cos'è sta roba Ok 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 Vai 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 Pronto 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 Sì Sì Ok Abbiamo fatto Abbiamo fatto Sono convinto Che l'impostore di questa volta sia Bravo Non puoi dire Ok ok Così sì Sia un bravo Sono sicuro È un bravo vai Sono convinto Questa volta ha capito Questa volta l'impostore sa fare No Ok Tu non puoi essere Io ho fatto la cosa giusta È un bel disegno questo È un bel disegno Maglietta anonima Maglietta anonima Cosa sei scemo Che domanda Non è che sei di nuovo tu Eh questo fa schifo Questo fa schifo È un po' anonimo Poi ho messo maglietta a basta È una maglietta Vabbè è giusto Questo è quello dove mi hai detto Anna metti pronto Chi sarà mai l'impostore Chi sarà mai Non lo so Beh effettivamente capisco Che non bisogna essere Troppo espliciti forse Perché altrimenti Vieni subito scoperto Infatti Però almeno fai qualcosa Tipo un omino Con una maglietta Ma tanto Tre secondi Per disegnare Cosa dovevo dire Ah ok Però c'era Ho riconosciuto Pipistrello No no È giusto È giusto È giusto Gli altri Oh Pipistrello è rimasto Oh se è Anna Ok Se non è Anna Non è Anna Perché ha fatto Pipistrello giusto Se non è Anna No allora Sta cosa Ma che c'ha Scusa Anche stregatto Però Non ha capito niente Eh no questo è fantasma Scusate Eh sì Un pipistrello Con il sedere enorme Nettuno Ma come si fa Nettuno Ma scusate Ma come faccio Guarda là Ecco Nettuno Dai ma sei un idiota Ma non è un pianeta Nettuno Cioè anche il dio del coso Lì cos'è Del mare Alex in mezzo alle stelle Questa cosa è cattiveria Questa cosa è cattiveria Vediamo Anna La palla a blu Gatto sotto cielo Ok Questo non è un gatto Non è un gatto E' un trappiede Questo Esatto Alex sei tu eh Lai è un mostro Nuota Bene Io meno dai Rimango convinto Che sia Anna E che ora Abbia cercato di sviare Un po' le Le indagini Mi sa di no eh Pirata Molto giusto Molto giusto È un giusto Pirata in ba Eh vedi Vedi Anna sta sapendo Qua non c'era la barca Anna sei pregata Di parlare Siamo ancora No non ci parlo con te Anna Oh pirata su parchetta Cista Anna No non ci parlo con te Non è che se ti metto fretta A disegnare Ti puoi offendere Ma hai dato tre secondi Impostore 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 Sus Perché io Perché c'è cappello Perché c'è cappello come cigo È un po' pirata È accurato È accurato Coleottero Che è il coleottero Dai non è nulla Questo non è un coleottero Questa è una ribellula Sì è giusto È giusto È giusto Anche io ho fatto così Infatti vedi La ribellula non c'ha lago Allora lago Eh Vedi come te lo dico Paga vespa Allora la vespa non è verde È un po' sus È però pagalo È pagalo È un po' Lei ma gli avrei fatto le strisce Carriola Carriola Ma dove mi hai detto Di mettere subito pronto Carriola Anna sei sus Anna è un po' L'angolino Vabbè Anna è un po' così Carriola Cupido Vabbè Ok Vabbè È giusto È un po' cupido È un po' cupidesso Lion cupido Sì giusto Giusto È molto È molto accurato Eh Questa è una banana Infatti Anche io ho dovuto disegnare questo Cupido vedi Però perché ti deve dire il suggerimento Il significato è stato alterato Lo sapremo i nostri occhi Lo sappiamo leggere Ma poi come fa a sapirlo L'hai un banana Vabbè L'hai un banana è rimasto però Allora direi che questa volta Effettivamente è stato palese Però Io avevo capito Che era diversa sta cosa Ed effettivamente Secondo me Doveva essere diversa Doveva fare Che non venivano detti Chi aveva disegnato cosa Capito Cioè Tutto anonimo Eh Sarebbe stato più difficile Però effettivamente così Forse non era neanche possibile Capire chi Chi è che non stava votando Chi Chi non stava votando Oh io forse Oh Ma scusami eh Ma che ne so Io non stavate neanche dicendo Votiamo Eh perché non vedi i voti No non li vedo Oh la piantinozza sta tipo a sette punti Sette punti Eh perché Perché ha vinto Perché ho barato Esatto Ho barato un po' troppo Allora Questo è così Questo è così Questo è così No questo è possibile Ma come si disegna Ma infatti si Cioè ma what Oh faccio così Un po' di nero Sì 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 va bene così Va perfetto Però Anna è pregata di parlare eh No non ci parlo più Oh Anna No non ci parlo più Smettila No Anna No Anna A meno che non mi chiedi scusa No Perché ti devo chiedere scusa E adesso farò tutti dei disegni Ma talmente orribili Perché ti devo chiedere scusa Sarò sempre la prima Mette pronto Perché ti devo chiedere scusa Perché ti devo chiedere scusa Perché ti ho messo Perché mi ha messo fretta Ma scusa ma se Dobbiamo mettere pronto Ma se già c'è gioco Che mette fretta Perché devi mettere fretta pure Perché il gioco Non ti mette fretta A te Non finisci mai In tempo Possiamo mettere pronto Aspetta no Aspetta No metti pronto Non stai facendo un'opera d'arte Metti pronto Eh metto pronto Ho messo pronto Il mio è Chi lo capisce Tipo Il genio Perché è difficile Cosa Ok Non so come si chiama Non so come si chiama Pronti 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 No 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 Dai Dai Ok così Forza Non so Cicca di impostore Basta Non lo so Ok Aiuto Sinceramente non so come si disegna sta cosa Arrangiati no Un po' così Anna No aiuto Non stai mettendo pronto Non hai rotto le palle Vedi quanto è pesante Vedi quanto è stressante Ma perché tu ci metti sempre un casino Metti pronto Io penso pronto da tre ore Non è vero Guarda che solo prima l'hai messo pronto Dai È brava Anna stiamo mettendo pressione psicologica Anna fare spi tra noi Vai Senti eh Vedi quanto è pesante Quanto è fastidioso Ho capito E niente Oh Va bene se ti chiedo scusa la smetti Sì Scusa Perfetto Oh ora sto meglio Grazie Che deficiente però eh Mamma mia Ma io che deficiente Ho dovuto scrivere carriola L'hai scritto L'hai scritto perché eri l'impostore Ho dovuto disegnare un trapezio Aspetta non ho finito Non ho finito Non ho finito Non ho finito Ah che ho rotto tutte cose Ok Sono pronto Sono pronto Sono pronto Ti capisce Il mio no Ok Il mio sì Ok Cosa Cos'è Ok allora Questo sarà Alla sta pronto Poi mettiamo così Ok Ma che cos'era Cos'è Cos'è sta cosa No Non so che forma abbia questo Non so che cosa vuol dire Non lo so Ecco qua Adesso lo cerco un attimo Ok No No vabbè Ma chi è che io ti degno ste cose No chi è che scrive Oh è questo penso Lega Dai Sì Vabbè Il mio si capisce Dai va bene Medi così No no wait No 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 Devo un attimo riguardare su internet Aspetto un attimo Ma che parola hai avuto Dai Non c'è tempo di guardare Disegna Disegna Lo sto disegnando Ma non so che forma abbia Ti vedi un fiore Cosa sto facendo Devi disegnare Non è che c'è tempo Sembra un mostro Eh Disegna un mostro Io ho messo pronto Pronto ho messo pronto Ok anch'io Pronti Pronti Eh no io non sono soddisfatto Cos'è Cos'è Non lo dico cos'è questo Non lo dico Eh Scusami Fatto No aspetta Non so come descrivere questa cosa Non lo so Io boh Ok Ma che cavolo Eh Dai dai pronto pronto Ma è davvero troppo difficile Eh ne ho finito Ok Con qualcuno quasi sbizzarrito di brutto Questo fatto che bisogna metterci noi in mezzo Guasta ancora di più Sì Ah Cos'è Eh friggere Friggere È la friggitrice La friggitrice Un viustel Il viustel Il viustel Pistello surrette È il pisello surrette È quello Eh scusami Friggere Un cesto di piste Dai la friggitrice Ma come la fai la friggitrice Sicuramente è una friggitrice Quella è un cestino È il cestino della friggitrice Quella è in missione La friggitrice è in verità è in quel modo eh Eh Sì è in quel modo Sì ma non c'è niente che dire che è quella friggitrice Oh non ho fatto in tempo Ho fatto il viustel Più di così Si affaccia Oh Per favore eh Cloud Oh Ma questa è la VV0 Eh questo infatti è sospetto eh Non c'è nulla qui Oh senti Questo è prima che tu mi chiedevi scusa Ah perché sei stupida allora Dai questo qua non si capisce niente però Io non l'ho capita questa cosa Io non l'ho capita questa Sassofono Guarda ma cosa mi hai toccato Di Dio Che forma avessi Ma scusa Cos'è sta roba È un sassofono di pelle Sassofono di pelle Tutti gli strumenti al mondo Sassofono Sì Penso è brava Che ne so Oh Questo era molto sassofono il mio però Sì Sassofono di cavalluccio marino Anna Ma quanto è bello E questa è molto bello Anna è vogliata Cavalluccio marino Vedi bravi Eh sì Bello Ecco qua già però non è più Perché non sono marroni Non sono marroni Oh tre volte di fila Prefetto Va bene No 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 Quanto è Non è un cavalluccio marino Cosa no Ma lui mi hai visto uno Fermi Piziel Sei tu Sei Hai salvotato Hai fatto Piziel Era un cavalluccio marino Il mio Ma dove li vedo È un cavalluccio marino Non è vero Cos'è questo Cos'è questo Questo è volgare Questo è volgare Io non so come l'ho capito Questo è volgare Eh anche questo Questo è impostore Sei tu Sei tu Non è nulla Vedi ha capito Eh di te ha capito Ecco qua non si capisce niente più Dai Ha impostato di nuovo No è vero Non si capisce Perché c'è le noti musicali lì Eh le luci sono Le luci musicali Le luci Questo dai Qua ha impostato Gartic phone Cosa devi disegna Cosa devi disegna È Chuck E io raga qua ho impostato Ah impostato sei tu Sei tu di nuovo per me Sei tu di nuovo E io qua dovevo disegnare Se non un orangotango No no Tu sei impostato di brutto No sei tu Ma sei questo è piadina Guarda che schifo Ho impostato anch'io Uomo di legno con sassone Ma che nessuno Allora Cico sono sicuro Guardate ora nel suo Ma questa era Anna Eh ma adesso è il suo Guardiamo Marte Abbasza sti pianeti Dai ecco io palesemente Perché è più grande della terra Non dovrebbe Vedi Pialesemente è un pisello con le ali Ma cosa Il pianeta è rosso Vedi 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 Eh Cico L'ho detto io Sei tu sei schifoso Raga credete a me No sei tu sei 5 uomini nudi Non è vero Non è vero È Cico È Cico raga Votate Cico Vi giuro che non sono io No no Sarei stato più scaltro È Cico Ho trollato un po' Ho trollato un po' Ma non sono io È Cico Io mi hai combattuto È Cico è Cico è Cico Te lo garantisco Piali Pialina te lo garantisco Mi hai già fatto arrabbiare Pialina Non puoi delugermi Quei cartelle erano rotto però Mi hai fatto un uomo nudo Vabbè Eh vince Bertufande È tutto stupido fare i piselli Così si fa l'impostore Mica come avete fatto voi Ah vediamo Ah No vabbè Ma siete seri? Ha fatto un pisellino Ha fatto dei pisellini Lo ammetto E quindi Tutti quanti Tutti tutti No è vero Solo alcuni Allora è colpa mia Se voi non riuscite a indovinare le cose E i disegni No Perché Se erano Io ho capito così Che cosa dovevo mettere Ho capito pisello Ho disegnato un pisello Sembrava giusto Non è vero Non è vero Non è vero Non è giusto Allora abbiamo giocato un po' È stato divertente Lo rigiochiamo qualche volta Mi è sembrato molto bellino Però per oggi ci fermiamo Quindi Date la buonanotte a tutti Buonanotte Gliela farò pagare Con tre mesi di risentimento Allora non ci abbiamo di nuovo Ma non ci abbiamo mai più Remember me Remember you Ci sentiamo questa Che è comunque molto bella Che ve ne è parso di questo Era carino no? Eh sì oggi è sabato Domani non c'è la live Ci rivediamo lunedì Con la caccia al tesoro Organizzata da me La farò Impossibile Perfida Malvagia Incivile Sarò cattivissimo Vedrete Ci vediamo lunedì ragazzi Vi ringrazio per aver partecipato Grazie a tutti quelli Che hanno fatto la sub Siamo ancora più di 8000 ragazzi Magari ci rimaniamo Non è detto eh Però magari Magari ci rimaniamo Per oggi ci fermiamo Grazie a tutti per la partecipazione E buonanotte a tutti Mi raccomando ricordatevi Non domani ma lunedì Alle 19 E per oggi è tutto Lion Out Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti